Giuseppe Lipera non demorde. Il legale di Bruno Contrada ha presentato l'ennesima richiesta di revisione del processo al suo assistito. Troppe le ombre infatti sul principale accusatore, il pentito Scarantino. Ombre fatte emergere inconsapevolmente anche dal PM Ingroia nel suo libro pubblicato di recente. Stamattina l'Avvocato Lipera ha incontrato la stampa Alessandro Sofia. Sono convinto che la mia vicenda giudiziaria non si chiude con questa sentenza perché non è possibile che una storia del genere rimanga sepolta in atti giudiziari. Giuseppe Lipera guarda l'intervista rilasciata dal suo assistito da Bruno Contrada tre anni e mezzo fa mentre si trovava nel carcere militare di Santa Maria a Capoetere. Parole che oggi suonano profetiche. Nel gennaio del 2008 lui mentre in carcere disse questa storia non si può chiudere così e mi pare che ci siamo. Contrada non demorde tantomeno il suo legale il quale chiede che venga fatta finalmente luce su una vicenda simboleggiata da una bilancia. Insomma basta poco per condizionare il destino di un imputato e non è detto che quel poco sia corretto. Quando poi ci si basa sulle dichiarazioni di una belva pentita così come Scarantino la bilancia traballa. Chi gliel'ha messo in bocca a Scarantino queste cose? Chi ha parlato male con Scarantino di Bruno Contrada tanto da indurlo in quel periodo in cui lui cercava disperatamente di uscire da pianosa e dice avrei accusato anche mia madre perché mi mettevano la pipina al mangiare. Anche perché così come dimostra il documento incorniciato da Lipera un rappresentante dello Stato così come Francesco Cossiga si espresse così su Contrada. Cossiga dice a Lipera le sono grato se vorrà far pervenire al dottore Contrada i miei immutati sentimenti di amicizia e di solidarietà. L'ennesima richiesta di revisione del processo all'ex numero uno del SISDE condannato per concorso esterno in associazione mafiosa e presentata alla corte d'appello di Caltanissetta scaturisce da fatti inediti forniti inconsapevolmente anche da Antonio Ingroia. Nel suo libro Il labirinto degli dei il magistrato di Palermo definisce scarsamente attendibile Scarantino l'accusatore di Contrada ma di tale giudizio nel fascicolo del PM non vetracce. Il peccato originale di questa vicenda è di chi ha inventato il concorso esterno. È una norma incriminatrice che non ha fatto il Parlamento italiano, non ha fatto il legislatore, l'ha fatta la giurisprudenza. Allora cancelliamolo questo concorso esterno che altro non è che il chiacchiericcio. È difficile difendersi dal chiacchiericcio.